paradossalmente come spesso succede anche per la scienza i successi gli grandi successi che ha avuto rappresentano anche un elemento di ombra, un elemento problematico. Il dominio, la prevalenza del pensiero scientifico razionale, quindi separazione, dividere per conoscere, è diventato egemone e ha occupato gli spazi anche che non gli competono, ha diviso l'ipertrofia del razionale, ha diviso, ha separato per conoscere, ha prodotto l'identificazione con il mondo materiale, quello più evidente, quello più facile da studiare, la negazione della coscienza o la sua delega al mondo trascendente della religione, ha prodotto la separazione tra mente e corpo, tra spirito e materia e così via. Questa separazione è alla base di quella che chiamiamo pandemia emozionale, ma è una separazione che viene da molto lontano. Vogliamo provare? Avete la pazienza? Andiamo a vedere la storia? Chiediamo aiuto agli antropologi? Com'è? Com'è la storia dell'umanità? Com'è incominciata? La storia prima di essere raccontata? Eravamo prede, prede quindi, sopravvivenza, paura, controllo, lotta, da preda faticosamente, da prima imitando gli animali, imitando le iene che mangiavano i cadaveri, ebbene sì. Poi dopo, rinforzandoci e diventando a nostra volta predatori, abbiamo salito la scala alimentare, raccoglitori e cacciatori. E poi, piano piano, pastori e agricoltori. Teniamo a mente questa diade, pastori e agricoltori, perché questa diade è un po' ciò che spiega. Pensiamo al pastore, ai pastori, nomadi, in zone aride, spesso marginali, rese ancora più aride dall'abitudine della pastorizia e andare, cioè muoversi, consumare, cambiare posto. Quindi senza nessun trattamento o cura della terra, senza semina, senza raccolto. Spogliazione, prendere e andare, una sorta di sfruttamento della natura. E proviamo a pensare anche quale sarà poi la mentalità. Mentre dall'altra parte l'agricoltura, rispetto di ritmi, prendersi cura della terra, pianificare, seminare, raccogliere, curare, vivere in comune, darsi delle regole e così via. Mentre potremmo dire che nella pastorizia vigia la legge del più forte, nell'agricoltura incomincia a nascere una cultura, potremmo dire, della compassione, della solidarietà, della condivisione. Lo spirito comunitario è lo spirito individualista. Vince il più forte, si vince in gruppo. Questa diade, al di là del ruolo pastore-agricoltore, è una diade che poi rispecchia il maschile e il femminile archetipico non tanto di genere. Accoglienza o soprafazione, collaborazione o vittoria, combattimento o dialogo, pace o guerra, superiorità, superiorità e inferiorità o collaborazione, uguaglianza, parità. Pensiamo a quante di queste diadi possono essere riconosciute. Già dalle origini si prefigura un dualismo, si prefigura un equilibrio che deve essere mantenuto o che può essere rotto, un delicato equilibrio tra paura e fiducia, tra pianificazione e immediatezza, tra istinto e ragione, tra qualità, diciamo così, buone, umane, tra qualità intese come il meglio di noi stessi, oppure la necessità, il dovere, la fatica e quindi l'emergenza. La sfida è quella di mantenere questo equilibrio, solo che questo equilibrio si è rotto e si è rotto tanto tempo fa. Proviamo un po' a vedere quando. Tutti quanti noi siamo indoeuropei, noi europei poi di conseguenza pensiamo a quanto si è diffusa la cultura, diciamo così, europea. Stati Uniti e via di seguito, conquistatori, la razza bianca, i conquistatori vittoriosi. Veniamo dalle steppe dell'Asia, dell'Asia centrale. Pastori, situazioni di emergenza, carenza di cibo, regime duro, cultura della sopravvivenza, della lotta, della durezza, dell'esclusione dei sentimenti come elementi fragili che portavano a minaccia di morte, non utili, non funzionali alla sopravvivenza. Scoperta delle bevande fermentate, del ferro e del cavallo. Immaginiamoli queste orde. Tra il 2005 e il avanti Cristo hanno conquistato il mondo finora conosciuto, fino allora conosciuto. Li vediamo, gli abbiamo negli occhi i film, quando arrivano a cavallo con le loro armi e esterminano i villaggi di agricoltori. Questa è la storia. La storia non l'ha fatta l'agricoltore, la storia l'ha fatta i conquistatori, i vincenti, i guerrieri, i combattenti. I primi rei erano i migliori combattenti, i migliori guerrieri. La legge del più forte ha costruito la nostra società e di conseguenza poi ha tramandato un pensiero basato su ipertrofia del razionale, cultura del dominio, mitizzazione del dominio, della sofferenza, del potere, della distruzione. Pensiamo al guerriero valoroso la cui meta principale è morire in guerra, combattendo il nemico. Quindi questa ossessione per la morte, per la vita, per l'aldilà, per la lotta, veicolata da una vita difficile, da una vita anomada e basata appunto su la sopravvivenza. Termini come fiducia, amore, piacere, sacralità, abbandono, condivisione. Era un lusso che non si poteva permettere, i vincitori. E così ecco che succede quello che Dimeo chiama istituzionalizzazione del trauma, sviluppo di personalità rigida e imprigionata in una corazza di durezza, di controllo, di negazione dei sentimenti di piacere, valorizzazione di disciplina, dolore e sacrificio della ragione sull'istinto, della materia sullo spirito, del ricco sul povero, del vincente sul perdente, del sano sul malato, del normale sul deviante che era semplicemente un ostacolo che veniva eliminato. Le stesse divinità diventano, da divinità della natura diventano uniche, vengono messe nel regno dei cieli, diventano castigatori o misericordiosi che salvano, che condannano. E l'umanità si fonda su peccato, colpa, perdono. Ecco, tracciate un po' la genesi di questa pandemia emozionale che ancora oggi ci pervade e risorge come una finisce sulle cenere ogni volta, soprattutto ogni volta che è un'emergenza vera o presunta si manifesta. possiamo comprendere come sia facile adeguarsi, sopportare, ricercare quasi la condizione di emergenza quando siamo un sistema di pensiero e di comportamenti che è nato in questa situazione, una serie di abitudini costruite apposta per vivere in emergenza. E quindi questa pandemia emotiva, così ben descritta da Reich nel 1933, lui la chiama peste emotiva e dice questo. La peste emotiva è una biopatia cronica dell'organismo, apparso con la prima soppressione della vita sentimentale genitale su vasta scala. Un'epidemia che affligge il piccolo uomo nelle sue relazioni interpersonali, nei processi politici che possono provocare azioni non democratiche e demagogiche. Si tratta di un comportamento anomalo della società che minaccia la ricerca di una società libera ed equilibrata, per via della quale i popoli sottopongono le loro volontà a governi attraverso la costruzione del patrocinio patriarcale. I popoli vengono così subordinate alla violenza politica attraverso imposizioni, ma soprattutto generando individui afflitti emotivamente e dipendenti da gerarchie autoritarie, organizzate in base a censo, etnia, proprietà, sesso, non ci ricorda qualcosa. Quindi è dato che, come vediamo, il pensiero è influenzato dall'emozione, da quello che noi facciamo, l'emozione, l'emozione influenzano dal pensiero. Un blocco, un blocco della forma della vita, una somatizzazione della repressione sessuale, una istituzione del trauma, un blocco nella vita sentimentale, genitale, piacere, lasciarsi andare, affidarsi, produce un pensiero di controllo, di divisione, di separatezza, di giudizio, di eccessivo ragionamento. Quindi repressione emotiva, ipotrofia razionale. Questo è alla base della nostra pandemia. Cultura del dominio, codice della paura, retorica della guerra. Cosa succede a livello neurofisiologico? La chiave della risposta è nell'amigdala. L'amigdala è una delle strutture legate alle emozioni. Una è l'amigdala, l'altra è l'ippocampo, che è al centro del sistema limbico. Cosa succede? L'amigdala alla nascita è molto più sviluppata che non l'ippocampo. L'amigdala è delegata a dichiarare lo stato di emergenza, a creare una risposta emotiva impellente, istintiva per risolvere la situazione in fretta, per togliersi dall'impiccio. Mentre l'ippocampo elabora emozioni più mediate, appunto, piacere, fiducia e via di seguo, sentimenti. Dato che l'amigdala nell'infanzia si sviluppa più precocemente, la storia emotiva, l'esperienza emotiva della nostra infanzia sono segnate, segnano molto più intensamente la nostra vita, creano un cosiddetto circuito, un sequestro neuronale. Si attiva un circuito breve che non fa. Bastano pochi elementi che richiamano a quella situazione traumatica dell'infanzia, perché noi viviamo in una situazione con la stessa intensità di pericolo e di emergenza di allora. Pensiamo a come poteva essere drammatico da piccoli lo sguardo di un padre, l'assenza di una madre o lo stesso parto. Ogni volta che si crea una situazione di emergenza, una strettoia, uno sguardo spiacevole, una minaccia dall'esterno, l'amigdala attiva questo sequestro neuronale, quindi questa approssimazione. Una cosa che sembra quella diventa quella. Un virus che fa pochi danni diventa grave come la peste, tanto per citare un esempio. Qualche cosa che potrebbe minacciarci, come siamo stati minacciati in passato, diventa una minaccia mortale. Perché queste emozioni vengano mediate? Devono passare appunto dall'ippocampo e poi dalla corteccia prefrontale e poi dalla neocorteccia. Una, la corteccia prefrontale smorza. Allora l'ippocampo fornisce dei ricordi più particolareggiati, consente di differenziare una cosa dall'altra. La corteccia prefrontale smorza gli impulsi, modulando una risposta un po' più appropriata. La neocorteccia elabora l'informazione e guarda un po', tendendo a controllarla. Se è ipertrofica, la reazione della neocorteccia divide per controllare, combatte la paura con il ragionamento. Ecco ricostruito un'emotività irrazionale, diciamo così, è un eccesso di razionalità per controllarla. La diade, emozione e ragione, che abbiamo visto all'inizio essere alla base, la confusione tra emozione e ragione, essere alla base di questa tendenza transumanistica, al transumanesimo di oggi. Questo diade, questa lotta tra emozione e ragione potrà solo portare o a cedere, a perdere, ad essere guidati dalle emotività, oppure a controllarla irrigidendoci in una struttura muscolare, caratteriale, rigida. E vediamo un po', a livello psico-neuro-endocrino-immunologico, a livello quindi della rete organismica, che cosa succede. L'organismo umano è in dialogo col mondo, dicevamo, e affronta, sopporta le difficoltà, le difficoltà, gli stressor, attraverso quella che viene chiamata la risposta da stress. Gli stressor della carenza di cibo e della minaccia di sopravvivenza dei pastori nomadi, fino allo stress, allo stressor del bambino alla nascita, dello sguardo del padre, della carenza della madre, fino allo stress della pandemia odierna, attiva una risposta di stress. Questa risposta di stress ha delle fasi, da prima generazione di allarme, poi di resistenza ad altamente, poi di esaurimento. E questo esaurimento può essere ovviamente caratterizzato da una fine, una ripresa delle risorse organismiche oppure un esaurimento appunto delle stesse. Questo ciclo viene chiamato da Silai, che è colui che l'ha in qualche modo descritto, General Adaptation Syndrome, quindi sindrome generale di adattamento. Per cui il dialogo con il mondo, questo stressor di risposta di stress genera una reazione a catena che coinvolge tutto l'organismo, tutto l'organismo. È impossibile separare corpo dalla mente, l'energia dalle emozioni. La rete è psico, neuro, immuno, endocrinologica. Sistema nervoso, immunitario, endocrino, tutti insieme. Gli stressor ovviamente possono essere, no? stressor fisici, una sciocca elettrica, l'esposizione al freddo o una ferita, un dolore. Oppure metabolici biologici, riduzione del livello glicemico, la fame per esempio, un'infezione, un'intossicazione alimentare, un virus, una malattia. Oppure psicologici, appunto, una paura, una prova, un'emergenza. Oppure psicosociali, una perdita, un lutto, una crisi economica. Ciascuno di questi stressor genera, appunto, una risposta. Se questi stressor sono troppo potenti, troppo frequenti o generalizzati, essi superano la capacità classica dell'organismo di otto rinnovamento, otto trascendenza, cioè di rispondere con la resistenza, con la fase di allarme e resistenza e producono un processo patologico di, appunto, di esaurimento. L'individuo è un CAS, Complex Adaptive System, quindi un sistema adattivo complesso, dotato di capacità di autorinnovamento e di autotrascendenza. Quindi dà la capacità di rispondere nel modo adeguato e di farlo imparando, rispondendo, imparando, ritrovando un equilibrio, non solo ritrovando un equilibrio, ma anche trascendendosi creativamente nel nuovo, imparando qualcosa di nuovo. Pensiamo un po' alla nostra pandemia. Se lo lasciamo funzionare, il nostro organismo è in grado di imparare qualcosa di nuovo e noi vogliamo tornare alla normalità o vogliamo imparare qualcosa di nuovo. Questa capacità di autorinnovamento e di autotrascendenza viene anche chiamato imprinting psicobiologico, cioè il nostro organismo attiva risorse, non solo, quindi, le risorse del sistema immunitario per combattere il virus, ma attiva risorse basate sulle esperienze passate, sull'età, sul sesso, sul buon funzionamento organico, basate sul proprio profilo psicologico e cognitivo, sull'alimentazione, sugli stili di vita, sull'attività fisica, sugli atteggiamenti posturali, sui cosiddetti condizionamenti neuroassociativi. quindi la risposta allo stressor virus in questo caso è una risposta complessa dovuta a un'infinità di fattori da tenere in considerazione. Gran parte delle cose che il nostro cervello fa sono al di fuori del dominio della coscienza. Ci dice Cazzaniga, il 98% di quello che fa il cervello è al di fuori del dominio della coscienza. Quindi possiamo comprendere qual è l'enorme importanza dei condizionamenti neuroassociativi nel determinare i nostri stati d'animo, i nostri comportamenti. Non possiamo trascurarli. Ridurre tutto a virus vaccino. L'ambiente rappresenta la terza fase, stressor, individuo e ambiente. Quello che sta succedendo sta succedendo all'interno di un contesto. E per l'ambiente dobbiamo considerare le condizioni geoclimatiche, ma anche la condizione sociale, familiare, sentimentale, lavorativa, economica, politica. Le condizioni psicoemotive, l'educazione, l'intelligenza, la consapevolezza, la padronanza emotiva, le qualità umane e le potenzialità spirituali, la capacità appunto di consapevolezza, di saggezza e di disidentificazione. Capiamo com'è ampio lo spazio sul quale noi possiamo agire di fronte a un problema o un'emergenza come questa. E noi riduciamo tutto a vaccino, virus. Non ci sembra un po' anticientifico. E cosa succede quindi tra stressor, individuo e ambiente quando un'emergenza arriva? Nella prima fase di allarme l'organismo ha raccolto tutte le sue risorse disponibili per un'azione immediata. Eh, se c'erano i ormoni che provano cambiamenti in determinate funzioni organiche, produzione di adrenalina, accelerazione di ipocardiaco, tutte le risorse a disposizione per rispondere. E questa fase dura finché è necessaria. Ma questa fase di allarme è determinata in gran parte dai fattori psicologici, è una percezione di allarme. Questa attivazione delle risorse immediate dipende da quanto noi percepiamo la situazione come pericolosa. Pensiamo quindi al ruolo della paura in questo campo, in questo momento. Se noi percepiamo come pericoloso una situazione, le nostre risorse si esauriscono in fretta. E poi il vaccino senza lavorare sulla paura. È qui che assume un ruolo fondamentale l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisario, quindi ipotalamo-ipofisi su rene, il quale mette insieme un complesso, complesso programma, sia biologico che comportamentale, per sostenere la risposta allo stress. Questa risposta porta a una sovrapproduzione di cortisolo e di conseguenza soppressione delle difese immunitarie. Pensiamo al circolo. Io vivo come minaccioso qualche cosa più di quello che è, quindi ho paura. Esaurisco le difese. Una volta esaurite le difese, se c'è la cortisola, che riduce le mie difese immunitarie. E poi prendo il vaccino. Quando le mie difese immunitarie sono già esaurite dalla mia valutazione psicologica del rischio, dalla mia riduzione delle aree di comfort e del mio vissuto di emergenza, aree di rischio psicologico. La prolungata riduzione delle capacità difensive moltiplica ovviamente la possibilità di incontrare malattie infettive e, tra l'altro, aumenta la predisposizione a malattie autoimmuni. Torniamo alla nostra cultura del controllo, istituzionalizzazione del trauma, codice della paura, identificazione con le nostre emozioni e guardiamo un po' nel caso della pandemia. Il protrarsi della situazione di emergenza, il vivere con eccessiva paura e mancanza di fiducia, il vivere il virus come un nemico da combattere a tutti i costi, sono tutte situazioni che ostacolano la seconda fase della risposta da stress, della sindrome generale di adattamento, ci creano una situazione di disadattamento, sono disfunzionali al raggiungimento dell'adattamento. Guarda un po'. La necessità di mantenere il controllo, l'incapacità di rilassarsi, disasuefazione al piacere. Non posso adesso perché dobbiamo combattere. Sì, non vedo l'ora che torni alla normalità per rilassarmi e nel frattempo salta l'equilibrio tra simpatico e parasimpatico. Entra in iperattività il simpatico e di nuovo ritmo accelerato, tensione muscolare rigida, sensazione di pericolo imminente che aumenta il circolo vizioso all'opera, trauma, paura, reazione simpatica, ipertrofia, razionale e controllo. Solo che questo è quello che sappiamo fare, pensiamo ai pastori. Mentre il nostro organismo sarebbe in grado, se lo lasciamo funzionare, di superare la fase di adattamento nel modo migliore, l'istituto del trauma, il controllo, la paura, l'amigdala, l'emotività controllata dalla ragione, fanno sì che si prolunga l'emergenza, si vive una situazione di emergenza costante. Questo produce ulteriore stress, esaurimento, paura che la mente razionale cerca di risolvere con strumenti inadeguati e il circolo vizioso continua. Così facendo lo stress diventa abitudine quotidiana e la fase di adattamento si traduce in fase di resistenza prolungata, uguale stress cronico, danno alla rete psico-neuroimmunologica e in particolare al sistema immunitario. Ma tanto noi facciamo il vaccino e risolviamo tutto. Pensiero magico questo si chiama, pensiero magico o visual thinking. Mentre invece se la risposta di stress fosse efficace, quindi se lasciassimo elaborare il nostro organismo, il nostro CAS, sistema complesso, la nostra rete ipotalamo-ipofisaria, l'organismo si riposa, si rilassa e favorisce l'attivazione dei processi di auto-organizzazione, piacevolezza, rilassamento, abbandono, fiducia, contatto con se stessi. Queste sono le condizioni per lasciare il nostro organismo compiere il suo ciclo, la sua sindrome generale di adattamento, d'allarme, adattamento, resistenza fino a esaurimento dello stressore e quindi recupero delle energie. Questo lo sa fare, se noi lo facciamo fare a me invece noi, trauma, paura, reazione simpatica, ipercontrollo, combattimento, lotta, vaccino. Mentre stiamo dentro, pregioriamo ulteriormente il circuito vizioso paura-controllo. Questo è antiscientifico. Negare questo è negazionismo. Ecco qua cosa succede nella fase di esaurimento. Ora proviamo a fermarci un attimo. Ma davvero noi pensiamo di essere fatti per vivere costantemente preda della paura, della pandemia emotiva, del controllo, della lotta. Codice della paura retorica della guerra. Non vogliamo la pace. Non possiamo accorgerci che siamo alla soglia del risveglio, che la pace e il risveglio sono qui a un passo e che anche quello che sta succedendo ci sta dicendo toc toc, guarda, guarda bene. Ma davvero tu vuoi tornare presto alla normalità? Ma te la ricordi la normalità? Forse non ti lamentavi un anno e mezzo fa della crisi economica, del tuo lavoro che non ti piaceva, delle relazioni insoddisfacenti sociali, del lavoro stressante, della vita alienata, dell'egoismo delle persone, della corruzione dei politici, dello strapotere delle multinazionali o della finanza, dell'incapacità, dell'avidità o ricordo male. È di quella normalità che parli, è lì che vuoi tornare. A quello stress cronico, alla paura, rabbia, tristezza, insoddisfazione. Tranquillo, perché se vuoi questo, fra poco succederà. Mascherina, distanziamento e vaccino ti faranno credere che stai superando la pandemia quando invece se ne sta andando da sola. Ma facciamo finta che stiamo vincendo, che la task force dei nostri politici e scienziati presto ci porterà, grazie alla vaccinazione di massa. Dobbiamo vaccinare tutto il mondo e ogni anno ci vaccineremo e torneremo così alla normalità, esattamente come prima, forse un po' peggio visto che il prezzo che abbiamo dovuto pagare. Ma pensi davvero che non possiamo sognare un mondo migliore? Pensi davvero che non potrebbe essere un'occasione per svegliarsi? Ricordati quando si nasce, non si viene semplicemente fuori dall'utero, cioè da una notte buia, si incomincia a respirare. Davvero non vuoi incominciare a respirare? Davvero credi che la vittoria sul Covid sia la vittoria, sia una condizione che ti farà vivere meglio, avrai imparato qualcosa, ti troverai più libera, libero, sveglio, sveglia, felice o dovrai riprendere dove hai lasciato, forse peggio. Cosa ci hai insegnato? Forse non riesci neanche a immaginare come potrebbe essere. Ricordati il nostro organismo è in grado di trascendimento creativo nel nuovo. Lascialo fare, la fase di esaurimento, se tu la lasci che si compia, trascende creativamente nel nuovo, attraverso apprendimento, memoria ed evoluzione. Questo è quello che il tuo CAS, Complex Adaptive System sa fare. Lasciaglielo fare. Guarda, mettici del tuo. Apri la visione. Sogna, big dream. Qual è il tuo grande sogno? Questa nascita nuova che sta avvenendo, che avverrà tra breve? Grazie a tutti gli sforzi che hai fatto, credi? Comunque avverrà tra breve. Dove ti può portare? Ricordati, abbiamo parlato di consapevolezza e disidentificazione. Davvero insisti a credere che non possa essere importante, che tu impari ad osservarti, ad osservare i tuoi pensieri, ad ascoltare dentro, a conoscere te stessa, te stesso davvero, a disidentificarti, cioè riconosci che io non sono la mia paura, io non sono i miei desideri, io non sono i miei bisogni, io sono un essere eterno, la mia essenza è eterna. Ma chi te l'ha detto? Nessuno me l'ha detto, o meglio, lo dicono tutti le tradizioni spirituali. Ma lo puoi vedere? Fermati, dai un'opportunità, osserva, ascolta. A questo punto dobbiamo parlare di stati di coscienza. La ricerca sugli stati di coscienza, semplificando, ci dice che noi passiamo attraverso degli stadi di coscienza, un po' come le note musicali o le tre tonalità, no? Della scala musicale. Ecco, sono quattro. Coscienza istintiva, coscienza razionale, coscienza intuitiva e coscienza unitiva. Ognuna rappresenta un mondo, così come i bassi o gli acuti, il soprano o il tenore. Il mondo del tenore è diverso dal mondo del soprano. Il mondo della coscienza istintiva, quello famoso pastori di seguito che ci siamo portati appresso con la pandemia emotiva, è diverso dal mondo della coscienza razionale, quello degli scienziati, quello della conoscenza che cerca di combattere, di superare l'istintività. Il mondo della coscienza intuitiva. Siamo talmente distanti da comprendere cosa sia la coscienza intuitiva che il buon Burioni ci dice che la scienza è anti-intuitiva. Chiedilo a chi ha scoperto il DNA, chiedilo a chi ha scoperto la teoria della relatività, se è anti-intuitiva. L'intuizione, ce lo dicono tutte le tradizioni, è un livello di coscienza superiore a razionale. Se tu scambi l'intuizione con l'istinto, certo che sì, ma l'intuizione è insight, è vedere nel buio. La coscienza razionale è come avere gli occhi chiusi e studiare attentamente, misurare, valutare e muoversi, perfetto. Ma se tu apri gli occhi, tutto quello rimane della coscienza alzana, ma tu vedi qualcosa di diverso. Quella è la coscienza intuitiva, caro dottor Burioni, professore. L'intuizione è insight, è la vera conoscenza, è la comprensione di un nuovo ordine, come la chiama David Bohm, è il fondamento, come la chiama Krishnamurti. E così via, si sprecano le definizioni, basta che date un'occhiata a dei testi della filosofia perenne. E questo schiude alla coscienza unitiva, quando tu ti accorgi che questa separazione tra me e te, in realtà è fittizia. Quando tu ti accorgi che è alleato e agguato, che mondo interno e esterno stanno giocando lo stesso gioco, che Girus e tu faccia parte dello stesso viaggio e quando smetti, allora smetti di combattere ciò che viene da fuori, ma di allearti, comprendendo che tutto fa parte dello stesso flusso interconnesso di eventi. Questo puoi imparare dalla pandemia. Questo risolverebbe davvero la pandemia emotiva e di conseguenza gran parte dei nostri drammi. E questo è scritto nelle nostre, è scientifico perché è scritto nel nostro cervello. Il buon McLint ci insegna, parla del cervello triuno, nella tripartizione del cervello. Cervello rettiliano, cervello mammifero e cervello neomammifero, corteccia. Cervello rettiliano, il tronco cerebrale legato alla coscienza istintiva. Il sistema limbico di cui parlavamo prima, ammigdala ipotalamo, sistema limbico, emozione, coscienza emotiva, cioè tra istintiva e razionale. Neocorteccia, quindi livello corticale, coscienza razionale. E se ci fermassimo qui, ci saremmo. Poi sappiamo che i due emisferi sono uno più razionale e l'altro più intuitivo. Però non sono in contrasto, perché? Perché il buon carl Pibram, neurofisiologo di fama mondiale, ci parla dell'ipotesi olografica, cioè il cervello funziona tutti insieme anche, o meglio è possibile creare condizioni nelle quali il cervello funziona tutti insieme, cioè senza connessioni locali questo stimola quello, ma tutti insieme. E questa è la base neurofisiologica del pensiero integrale, della mente unitiva. È ovvio che non puoi misurarla questo, puoi vederlo semmai che funziona insieme, ma come fai a accogliere l'unità se non attraverso l'osservazione consapevole. Ascoltiamo quello che dice Hunt, il quale prevede è una sorta di macrocoscienza che deriva dalla risonanza condivisa delle costituenti microcoscienti, cioè quando le varie parti del cervello funzionano insieme, pof, si attiva una macrocoscienza. E questo ce lo spiega David Bohm con il suo concetto di plasma dove tutte le componenti si orientano nel stesso modo. Questo ce lo dice il condensato von Einstein. Le ricerche su questo sono infinite. Ma leggiamo la frase di Hunt, man mano che una risonanza condivisa si espande in sempre più costituenti, la particolare entità cosciente diventa più grande e complessa. Quindi la risonanza condivisa in un cervello umano che raggiunge una sincronia gamma, per esempio, include un numero molto più grande di neuroni e connessioni neuronali rispetto a solo casi di ritmi beta e teta. Quindi, onde gamma, cervello che funziona tutti insieme, attivazione di molti più, neuroni, risonanza condivisa, coescenza dell'unità. È possibile, è scritto nelle nostre cellule. Il nostro organismo è fatto per questo. Se abbiamo la mappa per valcare questo territorio e gli strumenti per starci, siamo tutti prigionieri della nostra mente. Siamo in trappola. La mente razionale è un dono, ma è anche una condanna. Possiamo fare un salto oltre. La pandemia emozionale ci mantiene nel circolo dizioso, paura, controllo, stress cronico, identificazione. Ma l'osservazione consapevole ci può portare. Ci può dare gli strumenti necessari per un salto di coscienza. Fisiologicamente anche è tutto pronto. È pronto fisiologicamente, è pronto culturalmente. È pronto a livello di evoluzione dell'umanità. Le informazioni sono tutte qua. Tutte le tecnologie del sacro, tutte le tecnologie dell'esperienza internaio sono a tua disposizione. Te lo dicono tutti. Meditazione, osservazione consapevole, contatto con se stessi. Ci consente il salto, fiducia anziché paura, condivisione anziché controllo o dominio. Lascia andare i falsi bisogni, successo, sicurezza, potere, ricchezza. La vera ricchezza e il vero potere è dentro, ce lo dicono tutti. Ma devi raggiungere un altro stato di coscienza. Fare il salto, ricordati. Nascere vuol dire respirare. Questa nuova nascita, nuovo risveglio. Respira l'osservazione consapevole e la disidentificazione. Esci dalla pandemia emotiva e sì che allora faremo del bene a noi stessi e all'umanità. E sì, ci sono delle forze che remano contro. Nessun complottismo, assolutamente. Ma sono forze dentro di noi. Quella manipolazione di sé, quella pandemia emotiva che ci pervade. E non è che possiamo scegliere. O siamo preda della pandemia emotiva e ci svegliamo. Se siamo preda non possiamo che continuare a fare quello che stiamo facendo. Da una parte chi è spaventato e si fa controllare e dall'altra chi controlla. Da una parte chi crede che l'essere umano sia carne e ossa, cellule, processi biochimici, proteine, spike, molecole di RNA, DNA. Per quanto tempo ancora ci si potrà illudere di ignorare dettagli come anima, spirito, essenza, vera natura dell'essere umano. Ci sembrerà. Quando ci svegliamo ci sembra preistoria questo. Quando ci svegliamo guardiamo la maggioranza della popolazione. Nemmeno si sogna. Il piccolo uomo in noi nemmeno si sogna dell'esistenza di questo nuovo paradigma, di questa possibilità di osservazione, consapevole, disidentificazione, contatto con sé, fiducia, eccetera. E ovviamente negandolo proietta sull'altro le sue paure e quindi accettano di essere gestiti e controllati da chi è più in alto nella scala del potere. Più radicato quindi, più vittima della pandemia emotiva perché ha manipolato talmente se stesso da farsi guidare da potere, successo, ricchezza. E guardiamole allora i piccoli uomini e le piccole donne delle grandi case farmaceutiche che stendono il loro potere su altri piccoli uomini e piccole donne, politici, scienziati, governanti. Quindi la grande finanza, le multinazionali, i governanti e i politici. E ricordiamoci delle zone di comfort. Se io ho potere mi sento in zona di comfort e quindi posso fare il buono, è certo. E allora fare il buono cosa vuol dire? Diamo i vaccini gratis, togliamo i brevetti e i vaccini. L'importante è che tutti si vaccinano, l'importante è che facciamo secondo il mio modello di sviluppo che mi consente di stare dove sono. L'importante è che non cambiamo, l'importante è che mi riconoscete, che io mi sento sicuro nel mio ruolo di potere, sia io politico, governante, amministratore delegato. Una volta garantita la sicurezza, che la manipolazione che faccio a me stesso possa continuare. Sono l'essere umano più buono del mondo. Ma non mettete a repentaglio la mia sicurezza emotiva, perché altrimenti divento una belva. Se mi mangi un razzo, io ti distruggo mezza città, per esempio. E così via. Non osate minacciare. Il dissenso viene gentilmente accompagnato alla porta. E dato che le menti sono molto raffinate, la manipolazione è molto sottile. Sono diverse linee di intelligenza. Linee di intelligenza razionali, diciamo così, quella che serve per manipolare gli altri per il controllo, per il successo. Anche per progettare laboratori a One, piuttosto che ingegneria genetica, piuttosto che andare su Marte. È un livello di intelligenza, non intaccato dalla pandemia emotiva, se non per il fatto che viene messa al servizio della manipolazione di questa emozione, di questa emotività. I grandi ego identificati con il ruolo, al sicuro da questo ruolo, dalla loro personalità dominante, sono ignari della pandemia emotiva, di denaro, potere, successo, prestigio che li pervade, che manipola le loro coscienze. L'intelligenza del potere egoico è così abile, come ci ricorda Leying, da raccontarsi bugie e credere che sia una verità. Nascondersi dietro le maschere delle razionalizzazioni, giustificare qualsiasi comportamento con raffinate argomentazioni. Tutto questo, questo piccolo uomo che ci domina e questo piccolo uomo che si fa dominare in noi, merita compassione. In fondo sono schiavi delle loro identificazioni, sono al nostro servizio. Noi vogliamo farci manipolare o loro ci manipolano. In fondo chi si metterebbe in questi ruoli così scomodi, come il ministro della sanità, a prendere decisioni così stupide, a mettersi nelle mani dei comitati scientifici quali a loro volta si mettono nelle mani dei potentati economico-finanziari. Come potrebbero stare a questo gioco se non fossero loro stessi manipolati dalle loro identificazioni? Quindi sintetizzando, possiamo affermare che l'identificazione e la manipolazione sono i sintomi fondanti della pandemia emozionale.